Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Star Wars Squadrons per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio l'Impero ha recuperato, anzi per la precisione il Capitano Karril, ha recuperato delle risorse per sistemare la Overseer e attaccare il porto dove si trova lo Starook dei ribelli. Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo, Missione 9, Mon Cala nel Caos. Il Capitano Karril si prepara a mandare in fumo il progetto Starook, ma prima deve far sì che la flotta della Nuova Repubblica lasci lo scalo di Nadiri. Attaccate Mon Cala per distogliere l'attenzione dei ribelli dallo scalo. Ok ragazzi, rieccoci qua. Vuole proprio spazzare via i ribelli, eh? Pazzesco. Eeeh, sono io il comandante di questa missione? No, tranquilla. Allora, passiamo al briefing di missione, va? Così almeno capiamo bene cosa dobbiamo fare. Vabbè sì, se è difeso dalle altre navi. Ok, quindi dobbiamo semplicemente distrarre i ribelli. Ok, dobbiamo bombardarla. Alla fine ho optato per un cacciatai. Potevo prendere un bombardiere, ma alla fine ho optato per un cacciatai. Siamo saliti a bordo di una nave trasporti. E siamo arrivati a destinazione. E' uno dei cantieri navali della Repubblica? Ok, carrile, ok. Ok, carrile, ok. Avanti, ragazzi. Dai, creiamo un po' di casino. Ottimo lavoro. Aspettate che punto sulle armi, perché tanto non ci serve tanta velocità. Guardate che bel casino che stiamo facendo. Ok, stanno arrivando i nemici. Seguiamo Shen. Non so cosa abbia in mente di fare. I caccia della Anvil. Dobbiamo far fuori i caccia, eh, nemici. Ragazzi, ci stanno sparando addosso in non so quanti. Ok, dobbiamo far fuori anche sti ala U. Perché sono fastidiosissimi. E attenzione alle corvette. Ci sono anche degli ala A, mi sa. Sono velocissimi sti ala A. Ma non riesco a stargli dietro. Gran colpo! Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. L'ultima di qua. Distrutto. E abbiamo distrutto tutti i caccia della Anvil. Allora, eccoci qua. Mi sa che dobbiamo raggiungere gli altri depositi di carburante. O no? No. Ce ne dobbiamo semplicemente andare. Ah no! È vero! Dobbiamo distruggere quei trasporti. Scordatevelo! Scordatevelo! Allora, facciamo fuori... Il caccia nemici. Allora, un trasporto è andato. Adesso passiamo agli altri. Se concentriamo tutti quanti il fuoco su quella nave, ce la possiamo fare. Distruggi... Ah, due navi da trasporto. Soltanto due. Pensavo tutti. E arrivano altri caccia. Distruggi le navi da trasporto rimaste. E raggiungi il prossimo bersaglio. Allora, facciamo fuori anche quelle navi da trasporto. Se no... No, direi di... Di lasciar perdere. Ci hanno chiesto di distruggerne due. Va bene tutto, però non siamo degli assassini. Concentriamoci sul prossimo bersaglio, va? La fregata medica. Eccola lì che ci aspetta. Dobbiamo seguire... Grey. Ok, distruggiamo quella fregata. Attenzione che ha delle torrette... Per proteggersi. Ok, ragazzi. Abbiamo attaccato la fregata medica e ce ne dobbiamo andare. L'abbiamo danneggiata gravemente. Non l'abbiamo ancora abbattuta. Conviene andare via... Perché stanno arrivando... Altri nemici. Distruggi la fregata medica o raggiungi la silver coronet. No, stavolta la voglio distruggere questa qua. Nessuna pietà. Rega sta prendendo fuoco. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto la fregata medica. Guardate lì come esplode. E adesso dobbiamo raggiungere la silver coronet. Allora, possiamo tornare all'hangar della overseer... Se ci servono riparazioni. No, ma siamo a posto per il momento. Dai, ragazzi. Facciamo male ai ribelli, eh. Distruggi i generatori di scudo. Ok, ragazzi. Ho distrutto un generatore di scudo. Quando fa così... Dovete utilizzare... Il motore al massimo per scappare. Quello è il secondo, eh. Bisogna distruggere questo. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto i generatori di scudo. Adesso dobbiamo distruggere il sistema di puntamento. Che... È lì sopra. Mantieni L2 per aprire la ruota del puntamento. L e selezione i sistemi a miraglia. Sistemi a miraglia, ok. Ok, gli abbiamo distrutto anche... Il sistema di puntamento. Tutti i sottosistemi sono stati distrutti. Mantieni L2 per aprire la ruota del puntamento e selezionare gli obiettivi. Ehm... Obiettivi. Abbiamo distrutto la silver cornet. Corone. È andata, guardate che... Guardate che roba. Ripeto, fall back. Titan, obiettivo completo. Music to my ears. Thanks for making it happen, 3. Ok, ho fatto fuori ancora un paio di caccia X-Wing. Guardate come sta esplodendo. Allora, missione completata. Il relitto in fiamme sopra Mon Cala e altri luoghi chiave sparsi per la galassia attireranno la flotta della Nuova Repubblica altrove. Ora potrete finalmente raggiungere lo scalo di Nadiri. Ho ottenuto la medaglia al valore. Nessuna pietà. E missione completata. Mi manca la medaglia efficienza e niente carico. Vabbè, non importa. Ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Star Wars Squadrons qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Commentate, condividete. Iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Star Wars Squadrons. Alla prossima, ragazzi! Alla prossima, ragazzi!